Al centro le dune di Silvi con l'assessore al turismo Matteo Colatriano e la vincitrice della tappa regionale di Missa Adriatico, Anna Dincecco. Allora, dopo gli ultimi grandi successi, davvero un'estate strepitosa stiamo vivendo a Silvi. Assessore Colatriano. Beh, indiegabile, siamo molto contenti. C'è un duro lavoro, perché senza il duro lavoro le soddisfazioni non arrivano. Siamo pronti alle nuove avventure e soprattutto contiamo moltissimo nel riscontro del pubblico. Pertanto invito tutti quanti, i residenti e i turisti, a continuare a frequentare Silvi perché i grandi eventi non sono ancora finiti. Avremo la prossima settimana a Biagio Izzo, a Piazza Enrico Fermi, un grande artista, un ingresso completamente gratuito. Dopodiché proseguiremo per noi con una grande notte blu il 9 agosto, dove ospiteremo DJ Prezioso in Piazza dei Pini. Anche quello è un evento completamente gratuito. Poi ci sarà il 12 agosto in Piazza Marconi il cantatore Venerus. Anche qui non abbiamo avuto dubbi nel conservare la gratuità dell'evento. E poi concluderemo la stagione, per quanto riguarda i grandi eventi, il 28 di agosto in Piazza Enrico Fermi con il cabaretista Giovanni Cacioppo. Assessore, complimenti. Per Anna Dincecco che serata è stata? È stata sicuramente una serata piena di emozioni. Mi sono divertita tanto e non me l'aspettavo. Con le ragazze si è creato un bel gruppo, una bella amicizia e di questo sono molto soddisfatta. Ecco, un'estate ricca di emozioni, ma Anna Dincecco cosa sogna di fare nella vita? Quali sono le sue ambizioni, le sue aspirazioni? Beh, sicuramente essendomi diplomata in turismo mi piacerebbe continuare a lavorare nell'ambito e più precisamente mi piacerebbe fare l'hostess di volo. Questo successo, questo primo posto, a chi lo dedichi? Beh, lo dedico alla mia famiglia e al mio fidanzato.